Stai registrando? No no, tranquillo No, non stiamo registrando No No no, non stiamo registrando Allora se non stai registrando fai Uh, yeah Yeah Dai fai una intro Vabbè, ciao, questo è un Un video ignorante Esatto Questo è il pacchetto di tutti gli ordini che mi ha fatto questo individuo Spero che vi piaccia Ho un microfono brutto Ah, non ti riesci a vedere il canale del servo dei belli Ma mi raccomando, entrate nel server perché è una cosa molto importante Cioè, signori, guardate che server incredibile Cioè, mamma mia E non è neanche a posto Tutto in descrizione ovviamente No, noi sentiamo qualcosa dal canale di Elia No, quello là si è messo No, ho visto una roba Eh, io Crea, carica video Povero gabbiano Hai perduto la compagna Mettiamo Intro di Elia Descrizione Non sapevo Non sapevo Cosa fare Perfetto Adesso che abbiamo anche la miniatura Carica miniatura Eccoci, eccoci Salva Pubblica Perfetto Ho ripostato un video di Elia Perfetto È uscito Ma vai a cagare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.